Siamo sulla provinciale tra Torre Bruna e Castiglione Messermarino. Nella tarda serata di ieri, nel tardo pomeriggio di ieri, un trasporto eccezionale, un tir che trasportava una pala eolica da installare sull'impianto eolico di Castiglione, è stata coinvolta in un incidente stradale. Per motivi in corso di accertamento si è capovolta, non ci sono stati feriti per fortuna, però il mezzo è ancora sulla sede stradale e i tecnici dell'eolico stanno operando per il recupero. Probabilmente ci vorrà tutta la giornata e quindi la provinciale resterà chiusa. Grazie a tutti.